Io sostengo Matteo Renzi per due motivi specifici. Uno che il rinnovamento non è quell'argomento vacuo di cui si parla, non è soltanto cambiare le persone sulla base della loro carta d'identità, ma è prendere atto che ci sono alcune parole fondamentali della nostra vita che hanno cambiato completamente di senso. Quando oggi parliamo di famiglia, parliamo di lavoro, parliamo di donne, parliamo di qualcosa che è completamente diverso da quello che era 30 anni fa e avere qualcuno che ci guidi, che sia qualcuno che è un cittadino del proprio tempo, io credo che sia molto importante per questo paese. Il secondo motivo è che credo anche che il nostro nuovo capo del governo avrebbe essere una persona capace di ispirarci. Questo è un grande paese in una pessima situazione, però è un paese che ha tutte le risorse per farcela e per tirarsi fuori da una crisi profondissima. Allora avere una persona come Matteo Renzi io credo possa essere una specie di scossa elettrica benefica e positiva, che possa ridare delle energie che in questo paese esistono ma che hanno bisogno di essere risvegliate.